Abbiamo affrontato anche il tema del MES, che come sapete è un tema anche su cui abbiamo una posizione, non solo noi ma la maggioranza del Parlamento. E' stato molto chiaro anche in questo senso, una misura come il MES è una misura che va fatta se c'è un piano, se c'è una convenienza, se ci sono dei motivi per utilizzarlo. E non ci sono ad oggi né un piano, né un motivo, né anche una convenienza economica per immaginarlo come strumento da adottare. Infatti non è stato neanche minimamente citato nella sua elencazione di intenzioni di programma dell'azione governativa. Questo è il tutto, ovviamente adesso affronteremo anche le prossime ore, i prossimi giorni, verificheremo anche tutto l'aspetto complessivo, compreso anche il tipo di configurazione di governo che intende adottare il professor Draghi. E metteremo, come sapete, faremo parlare i nostri iscritti che ci daranno indicazioni in questa direzione o in un'altra.